Nel giorno di San Francesco di Sales, il patrono dei giornalisti, l'UCSI organizza questo convegno dal titolo alquanto provocatorio se il giornalista serve ancora nei giorni d'oggi del web. Sì, la domanda è alquanto provocatoria e anche retorica se vogliamo, perché serve ancora il giornalista. Ce lo siamo chiesti non soltanto noi del Luxi, ma un po' tutti quanti, quelli che viviamo nel mondo dell'informazione. I social network con il citizen journalism o gli altri tipi di giornalismo tra virgolette atipico come blogger o altro stanno aprendo a un universo dal quale noi comunicatori dobbiamo in qualche modo riuscire ad entrare ma anche a capire quali possono essere le migliorie che ci può apportare a questo. Quindi con questo convegno nel quale abbiamo invitato il Presidente dell'Ordine dei giornalisti e anche il nostro assistente ecclesiale e nazionale, Padre Francesco Occhetta, cercheremo di dare risposta a questo quesito anche a quelli che saranno poi gli interventi programmatiche che verranno dopo le relazioni. Luxi come si propone di fronte alle problematiche che sta attraversando appunto il mondo del giornalismo ma soprattutto il giornalismo in provincia di Agrigento. Noi proprio siamo l'Unione Cattolica della Stampa Italiana e cerchiamo sempre di vivere quello che è il giornalismo alla luce del Vangelo. Sembra stupido da dire o alquanto retorico o demagogico ma invece è proprio così. Chi è associato a Luxi cerca sempre di guardare oltre le notizie cercando di capire qual è il debole della situazione. Non sbattiamo il mostro in prima pagina, cerchiamo sempre di vedere in colui il quale è il soggetto protagonista di determinate notizie la persona, quello che ci contraddistingue poi non dagli altri giornalisti ma da quello che può essere un giornalismo più sulla notizia e sul mostro sbattuto in prima pagina. Noi cerchiamo di sempre tutelare il debole della situazione. Don Franco si riflette sulla professione del giornalista serve ancora il giornalista nei giorni nostri dove il web la fa da padrona? Ritengo di sì perché il giornalista svolge un servizio di mediazione tra ciò che succede, tra ciò che accade e ciò che la gente deve recepire. È un ruolo delicato perché il giornalista non può solo trasmettere quello che crede ma ciò che scrive o ciò che dice deve corrispondere alla verità. È anche un ruolo di mediazione perché deve aiutare anche a comprendere ma perché ci sia un'onestà professionale di fondo. Luxi si sofferma in maniera provocatoria con questo commegno sulla professione del giornalista. Diciamo che sta proprio nelle sue perché Luxi è nata per fare queste cose, fa queste cose, cioè si occupa proprio dell'attività professionale dal punto di vista culturale e soprattutto etico. Ecco perché si pone interrogativi seri e profondi quali questo. Devo anche dire con orgoglio che forse lo facciamo solamente noi e lo facciamo, penso bene, anche con Desc che è l'unica rivista d'aggiornamento e formazione professionale nel campo dell'informazione e della comunicazione in Italia e la fa Luxi. L'Ordine purtroppo non si occupa molto di queste cose, il sindacato non è in materia sua, meno male che c'è Luxi che si pone questi interrogativi che vanno nel profondo dell'informazione sia dal punto di vista dell'operatore sia dal punto di vista dell'utente dell'informazione. Dunque il giornalista serve nel ruolo sociale che sta adempiendo se garantisce tre condizioni. Il primo se salvaguarda la democrazia, il secondo se è credibile e quindi si fonda la sua credibilità non sull'essere creduto ma sul non essere falsificato e poi si è a controllo del potere politico come lo è in tutti i paesi. Devo dire che il tema è stimolante perché chiedersi se serve ancora il giornalista è un quesito assolutamente fondato. Oggi si tende sempre di più a dire che i giornalisti non servono, che non è importante che ci siano. Io credo che invece sia fondamentale avere degli operatori dell'informazione formati, qualificati, professionalmente adeguati e soprattutto capaci di trovare e pubblicare notizie. Serve anche il giornalista tradizionale? Serve soprattutto il giornalista, l'operatore di informazione professionale. Non servono di dilettanti, servono soltanto persone che lavorano in questo mestiere in maniera costante, abituale e professionale.